Io posso dichiarare di aver raggiunto o realizzato tantissimi i miei desideri. Io credo che quello che faccia diventare un desiderio in realtà sia la determinazione e per cui sia con me stessa, ma adesso lo sto cercando di insegnare anche ai ragazzi che alleno, ho sempre visto il desiderio come un arrivo finale che è la fine di un percorso e di una strada. Io di chilometri ne ho percorsi tantissimi, nuotando, pedalando, correndo, ma anche viaggiando tantissimo in giro per il mondo per far le gare e per raggiungere quello che sarebbe stato il mio obiettivo finale. Per cui questa strada lunga, lunghissima, a volte assolutamente in salita, portava sempre alla fine un traguardo. E a volte questa strada si faceva veramente difficile, ma con la determinazione e la voglia di raggiungere quel traguardo, alla fine io posso dire di aver raggiunto vent'anni fa esattamente ad Atene il mio più grande desiderio da sportiva, ma poi anche altri piccoli, altri desideri nella vita. Ora ho un altro piccolo desiderio che ho realizzato, ho messo il primo mattoncino, il primo passo del percorso quest'estate a Parigi, di vedere un mio atleta allenato da me gareggiare alle Olimpiadi. Quest'anno ho portato i ragazzi che alleno appunto a vedere le Olimpiadi, ho visto nei loro occhi accendersi la luce del desiderio e per cui spero che loro abbiano la determinazione, anche loro, di non mollare e di raggiungerlo. Io già fin da piccola gareggiavo nel cortile dei miei nonni con mia sorella e speravo di vincere, giocavo che io fosse all'Olimpiadi e mi promiavo da sola a volte. Quindi già piccolina avevo questo grandissimo desiderio, obiettivo che fosse e poi ho continuato a proseguire nello sport, cambiando, passando dei momenti di difficoltà assoluta e essendo determinata a non deludere mai, sia me stessa che gli altri. E questo è una cosa che a volte mi ha giocato contro, perché comunque spesso bisognerebbe concentrarsi su te stessi e dire io sono contenta fin dove sono arrivata, ma forse questo è stato anche un grandissimo stimolo per non mollare mai. Contro tutta la... cioè, contro i consigli... non seguendo i consigli della maggior parte delle persone, perché già facevo sport, io mi iscrissi al liceo classico e tutti mi dicevano sei una matta, stai facendo sport, sei super impegnata, non puoi farcela anche a studiare così tanto in una scuola così impegnativa con tutti gli allenamenti che fai, perché io a quel punto ero già comunque probabile olimpica, per cui mi stavo già allenando per andare all'Olimpiadi di Atene. Invece con determinazione e testardagine ce la feci e appunto ad Atene, proprio la patria di dove sono nati le Olimpiadi, di quello che io avevo studiato fino a quel momento, ho realizzato il mio più grande desiderio. Adesso vedo il mondo che io ho vissuto, con tante rinunce sicuramente, ma una strada che rifarei, che ripercorrerei in toto, lo vedo da un altro punto di vista, lo vedo come allenatrice, lo vedo come gestore di un centro sportivo e vedo in questi... spesso spero che questi bambini arrivino in piscina o al campetto esattamente come arrivavo io, con l'entusiasmo di dire diventerò un campione. A volte vengo un po' delusa perché mi dico no, io non lo faccio perché non ho voglia, oppure no, 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 ma è troppo faticoso, oppure rinunciano ancora prima di provarci. Allora io mi ricordo esattamente quello che avevo vissuto io, che tante volte anch'io mi sedevo e dicevo basta, così è impossibile, soprattutto alle grandi sconfitte, quando avevi delle grandissime aspettative, delle altissime aspettative che venivano assolutamente deluse, oppure quando anche io spesso cerco di stimolare questi ragazzini perché quando invece io mi presentavo alle gare o alle manifestazioni più importanti senza assolutamente nessuna aspettativa, era il momento in cui invece tiravo fuori dal cappello delle gare incredibili. Ricordo perfettamente che partì per il Giappone nel 2003, l'anno preolimpico, quando ci giocavamo tutto per qualificarci appunto per l'anno successivo, assolutamente fuori forma. Ero caduta in bici, non ero stata bene, erano successe un po' di cose che mi avevano assolutamente non portata ad arrivare a questa gara in forma e il mio natore mi disse se tu riesci a nuotare forte arrivi sul podio, ma è successo che un atleta italiana arrivasse sul podio in Coppa del Mondo. Io con quell'idea in testa volevo stupirlo e raggiungerei veramente quel desiderio forte che era uno, stupire il mio allenatore e due, prendere questo passo olimpico che era da otto anni che stavo incorrendo con una fatica infinita e insomma io quando uscii dal nuoto ho creduto che a quel punto, avendo fatto un nuoto assolutamente eccellente, che avrei potuto raggiungere il mio obiettivo. Arrivai a seconda e capì che veramente la determinazione porta a raggiungere i propri desideri. Sicuramente anche il talento, ma non c'è assolutamente talento che può fiorire se non c'è la voglia di farlo fiorire, quindi la determinazione e a volte, come dicevano i relatori prima di me, anche tanto coraggio. Quindi il mio intervento è breve, ma Matteo lo sapeva, e quindi anche in questo caso di corsa, io credo che la frase che ha segnato assolutamente la mia carriera è stato che la determinazione è l'unica strada per raggiungere i propri desideri.